bene buongiorno a tutte buongiorno a tutti ragazzi continuiamo il nostro percorso sulla memoria noi oggi ci occuperemo principalmente di affrontare studiare questa facoltà psicologica diciamo così definendola memoria come rievocazione e ricostruzione e memoria come oblio la scorsa volta a lezione abbiamo visto memoria come sistema poi tre sistemi memoria sensoriale memoria in breve termine memoria lungo termine poi abbiamo visto memoria di lavoro oggi noi ci occuperemo di memoria come rievocazione di memoria come ricostruzione e di memoria come oblio dimenticanza il primo studioso a parlare diciamo che uno studioso come psicologo che si è occupato di studiare la memoria è stato lo psicologo tedesco herman e binaus e binaus diciamo così mise innanzitutto sotto esperimento se stesso nel memorizzare nel capire e studiare che cosa fosse la memoria e aveva fatto questo esperimento doveva memorizzare una lunga lista di sillabe erano delle triplette quindi non so pap tet ropp sup eccetera e e altre triplette invece che erano diciamo così senza senza senso come dire e dunque in questo esperimento per caso diciamo inizialmente la sua il suo obiettivo era quello di capire quanto diciamo sillabe con senso per esempio pap o mam rispetto a sillabe senza se o tre o due o sillabe senza senso tipo gg quello che volete fossero più ricordati tra i due ma il risultato fu straordinario cioè praticamente quello che lui scoprì e che queste sillabe venivano dimenticate più rapidamente nelle prime ore che seguono la memorizzazione dunque dunque che cosa scopre e binaus scopre che ciò che viene memorizzato si dimentica più rapidamente nelle prime ore che seguono la memorizzazione poi dopo qualche tempo ciò che viene memorizzato si stabilizza si stabilizza vi faccio vedere appunto questo grafico che ci fa capire molto bene quanto è importante c'è quale tempo a diciamo così la memorizzazione secondo secondo e binaus ecco qua vedete dunque qua sono nell'asse delle y le triplette ricordate nell'asse delle x il tempo trascorso e allora 100 triplette già dopo 20 minuti se ne ricordavano 60 dopo un'ora circa se ne ricordavano poco più di 40 a 9 ore se ne ricordavano 25 a 6 ore erano sempre 25 fino 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 al trentunesimo giorno che ci si ricordava poi delle sillabe fino al trentunesimo giorno questa è questa questa è quello che fa di scoperta e binaus e dunque ci dice e binaus ci fa scoprire due cose interessanti innanzitutto che impara di più chi fatica di più cioè ripete ripete frequentemente più sillabe anche ripete tante volte dunque ripetere tante volte anche più di quanto a prima vista pare necessario giova sempre e ci dice e binaus un'altra cosa molto importante ci dice che i meccanismi che aiutano la memorizzazione sono principalmente due la distribuzione e l'effetto di posizione seriale la distribuzione è diciamo così la memorizzazione è facilitata quando l'apprendimento è distribuito cioè quando è suddiviso in unità brevi e frequenti e l'apprendimento diciamo la memorizzazione distribuita è molto meglio della memorizzazione massiva cioè concentrata su un'unica su un'unica seduta inoltre inoltre ci dice un'altra cosa per esempio che nella memorizzazione c'è un effetto che viene chiamato effetto di posizione seriale che cos'è questo effetto di posizione seriale è quel fenomeno per cui si memorizzano meglio gli elementi iniziali o finali di una sequenza pensate alle poesie noi ricordiamo i primi versi o gli ultimi piuttosto che quelli piuttosto che quelli centrali dunque l'effetto seria l'effetto di posizione seriale e l'apprendimento distribuito ci può vedere l'effetto di posizione seriale quindi ricordiamo facilmente ricordiamo più facilmente che cosa gli stimoli che vengono presentati prima effetto primacy rispetto a quelli e quelli dopo alla fine della lista l'effetto regency quindi il ricordo delle prime informazioni è facilitato perché perché abbiamo visto già l'altra volta memoria diciamo così a lungo termine registra queste informazioni e l'effetto regency è più diciamo così facilitato dalla memoria a breve termine perché sono le ultime sillabe sono le ultime informazioni che dobbiamo trattenere nella nella memoria dunque gli stimoli prima e gli stimoli finali sono quelli che ricordiamo sono quelli che ricordiamo meglio e questo si chiama effetto effetto di posizione seriale possono vedere anche in questo piccolo gioco l'abbiamo visto la scorsa volta lezione avete 30 secondi per memorizzare queste sillabe dopodiché avete 30 secondi per scrivere sul foglio un altro modo di definire la memoria è definire la memoria secondo ricostruzione e questo fenomeno di ricostruzione è stato studiato da frederick bartlett che è l'autore di uno dei più importanti volumi sulla memoria 1932 che si chiama ricordare e a differenza diciamo di ebbinaus per studiare la memoria bartlett non scelse come stimolo diciamo delle sillabe delle triplette ma scelse di analizzare e memorizzare diciamo così materiali provvisti sprovvisti scusate provvisti diciamo di significato cioè lui dice bartlett ci dice che noi memorizziamo meglio quegli stimoli che hanno che hanno un che hanno un significato questo è molto ben comprensibile all'interno dell'esperimento sulla sulla lettura del testo guerra dei fantasmi si faceva leggere appunto un testo ai soggetti e ogni volta i soggetti dovevano ripetere diciamo ricordare quanto avevano letto e si accorse diciamo bartlett che i soggetti tendevano ad accorciare semplificare il racconto oppure omettevano magari dei particolari poco compatibili oppure ne inserivano gli altri che non c'erano nel testo per cui che cosa ci dice bar che noi quando rievochiamo in realtà ricostruiamo ricostruiamo la memoria quindi la memoria che abbiamo è sempre una ricostruzione soggettiva singolare che è differente e differente per ciascuno quindi cosa intendeva dire bartlett che diciamo noi a tendiamo a adattare il materiale ai nostri schemi mentali che sono quelli il nostro background culturale sono quelli della nostra cultura di appartenenza quello che già sappiamo dunque in questo esperimento del racconto aveva aveva notato questo un altro importante invece sperimento che è stato fatto da branford e johnson nel 1972 invece è l'esperimento che ci dice che nella rievocazione molto importante è anche diciamo così il contesto il contesto è un prerequisito per la comprensione per il ricordo quando noi abbiamo diciamo così un contesto di riferimento ricordiamo meno in questo esperimento branford e johnson che cosa avevano fatto avevano preso diciamo così quattro gruppi di persone che sottoponevano alla lettura di un di un testo solo che il primo gruppo non aveva nessun contesto cioè praticamente non era una lettura dovevano ascoltare un brano ascoltare un brano nel primo gruppo non si dava il contesto cioè il gruppo ascoltava il brano dopodiché doveva cercare di comprenderlo e ricordarlo secondo gruppo li si dava un contesto prima cioè si faceva vedere un'immagine poi si faceva ascoltare il brano e poi dovevano comprendere ricordarlo a un altro gruppo si faceva vedere l'immagine dopo l'ascolto del brano l'ascolto del brano immagine poi con persone ricordo al quarto gruppo si faceva vedere un contesto parziale cioè gli elementi c'erano ma erano risposti in maniera differente qualcuno qualcuno mancava dopodiché si ascoltava il brano nel ricordo e poi quelli senza contesto cioè coloro che ascoltavano il brano due volte questo era il brano che veniva ascoltato dai partecipanti e questo era il contesto che aveva fatto vedere prima e dopo e dunque che cosa che cosa scopre questo questo esperimento che quando si faceva vedere il contesto prima la comprensione del testo cioè dell'ascolto del brano come anche del ricordo era maggiore era significativo si comprendeva meglio e si ricordava di più se si dava un contesto in questo caso un'immagine prima dunque il contesto è molto importante per comprendere e diciamo così comprendere e ricordare di un altro esperimento molto importante era questo ad esempio si faceva leggere a dei soggetti un testo di questo tipo la procedura è molto semplice prima dovete disporre le cose in gruppi diversi seconda della confezione naturalmente uno dei nomi che può vostrare se ci sono sufficienti cose se dovete rivolgerci altrove perché non siete capaci sarà il passo successivo nel caso contrario siete a posto l'importante che non cerchiate di strappare ecco se uno legge un testo del genere non capisce non comprende ma se noi diamo una parola o un'immagine che si chiama lavaggio dei vestiti riusciamo a comprendere il testo e anche a ricordarlo a ricordarlo meglio si veniva appunto detto che l'argomento prima era il lavaggio dei vestiti si comprendeva si ricordava e si ricordava meglio dunque questi due esperimenti ci dicono che la comprensione ricordo sono determinati sia dagli argomenti che dal contesto di riferimento ok infine l'ultima parte che ci riguarda più da vicino sulla memoria è il rispondere a questa domanda cioè perché noi dimentichiamo perché noi dimentichiamo perché le nostre i nostri ricordi a un certo punto decadono finiscono per tanti motivi dimentichiamo principalmente per tre motivi per questioni legate al decadimento cioè noi perdiamo delle informazioni e non usiamo a causa del non uso del fatto che non le rievochiamo non le ricostruiamo nel tempo ok io non mi ricordo come ho svolto la lezione sulla memoria l'anno scorso con i ragazzi di seconda e dunque se non uso la ripetizione si andranno a perdere queste queste informazioni inoltre c'è un momento quando la traccia amnestica cioè lo stimolo registrato non c'è più scompare a causa di una lesione cerebrale encefalica cioè una lesione e vera vera e propria organica nel cervello che ci fa perdere la memoria e inoltre appunto la traccia amnestica si risolve se non viene in qualche modo riattivata dunque se la memoria non viene esercitata come un muscolo se la memoria non viene riattivata si va a perdere allo stesso modo l'abbiamo dimentichiamo nostra memoria decade anche a causa di disfunzioni tipo cerebrali dimentichiamo anche magari per interferenza a volte noi dimentichiamo perché abbiamo più memorie che magari sono in competizione tra di loro pensiamo al fatto che appunto io oggi con voi sto facendo la memoria ma nell'ora dopo sto facendo la percezione in un'altra classe e magari non mi ricordo delle cose da dire adesso perché sto pensando alla lezione su perché ho studiato anche per la lezione successiva e dunque magari parlo di memoria ma mi sto parlando di percezione perché confondo le lezioni in cui mi sono preparato a volte qui due memorie possono entrare in competizione tra di loro possono entrare in competizione tra di loro in maniera diciamo così retroattiva o proattiva proattiva cioè quando le memorie del passato interferiscono con quelle del presente o retroattiva cioè quando le memorie del presente interferiscono con quelle del passato no quindi se io appunto prima ho fatto la percezione in un'altra prima adesso mi ricordo meno la memoria l'argomento sulla memoria perché ho fatto prima la percezione quindi ho in mente più o meno quella quell'argomento lì o più caldo no perché l'ho appena svolto rispetto a questo che vi sto facendo adesso quindi possono entrare in competizione delle memorie diverse e poi e poi l'ultimo diciamo motivo del perché si perde la memoria il concetto di oblio cioè una perdita di memoria fisiologica della una vera e propria memoria e si perde fisiologicamente ma l'oblio tantissimo ragazzi perché se non ci fosse l'oblio noi saremmo schiacciati dai nostri ricordi dal nostro passato e quindi è importante l'oblio per fare spazio a nuove informazioni ora questo oblio cioè la dimenticanza fisiologica può avere due tipi di cause una causa di tipo emotivo e una causa di tipo organico quando parliamo di cause emotive mi riferisco soprattutto a meccanismi di difesa che sono stati ben studiati per esempio la psicanalisi pensiamo a freud quando parlava dell'oblio come diciamo così meccanismo di rimozione no cioè quel meccanismo psichico in gran parte inconscio inconsapevole che allontana dalla coscienza desideri pensieri residui mistici che sono considerati dal soggetto inaccettabili intollerabili che provocano nel soggetto appunto vergogna e dunque noi tendiamo a rimuoverli a rimuoverli in che cosa in quello che viene chiamato inconscio oppure l'oblio può avere anche delle cause organiche quando parliamo di cause organiche ci riferiamo principalmente a l'amnesia cioè amnesia cioè mancanza di memoria c'è una perdita parziale e totale della memoria che è dovuta a cause tipo patologico cioè organico ora questa amnesia può essere legata a cause tipo organico siamo predisposizioni genetiche degenerative magari un incidente un trauma cranico o magari l'intossicazione da alcol o l'invecchiamento stesso ma può essere anche un'amnesia di tipo psichico e quindi non ci ricordiamo completamente o parzialmente alcuni eventi perché siamo troppo stressati o siamo in uno stato di iper eccitazione emotiva ora l'amnesia può essere di due tipi l'amnesia retrograda cioè quando non si ricordano eventi avvenuti priva del trauma o anterograda cioè quando non si ricordano eventi successivi al trauma e dunque e dunque quindi l'amnesia è questa perdita parziale totale di memoria che può essere in questi due tipi e che può avere due cause organico psichiche di due tipi cioè retrograda e anterograda c'è un bellissimo film si chiama memento di christopher nolan regista pluri acclamato gli stati america ma anche in europa interstellar se lo conoscete ecco memento è proprio il racconto di questo tipo di disturbo in questo caso il protagonista ha un'amnesia diciamo così anterograda e quindi non ricorda diciamo tutti gli eventi che sono stati successivi al trauma avvenuto e dunque ogni mattina si sveglia dimenticando chi è e che cosa deve fare dunque è costretto a tatuarsi sul proprio corpo dei messaggi per ricordarsi per ricordarsi appunto chi chi è un altro tipo di disturbo della memoria molto importante vediamo sempre più frequentemente quello legato alla demenza semile o chiamata anche malattia di alzheimer la demenza di alzheimer è stata studiata appunto da alois alzheimer questo neurologo dell'ottocento nato nel 1864 ed è un vero e proprio deterioramento delle attività intellettive e quindi un calo della della memoria si parla appunto di demenza di situazione appunto di demenza semile o di processo neurodegenerativo dal punto di vista clinico e cosa succede che questo processo distrugge le cellule cerebrali del malato danneggiando le sue capacità cognitive percettive e questa malattia può durare dai due come anche ai vent'anni e prima di sopraggiunga la morte dunque una neurodegenerazione cognitiva che ha i seguenti sintomi la perdita significativa nella memoria a breve termine l'incapacità di formulare e comprendere le parole la confusione il disorientamento l'incapacità di orientarsi l'incapacità di riconoscere persone o luoghi familiari sono molti video che poi vedremo nelle prossime lezioni che parleranno di questa malattia e così concludiamo oggi tutto quello che riguarda la memoria memoria ripeto come rievocazione gli studi di ebbinaus ma anche la memoria come ricostruzione gli studi di bartlett la memoria come comprensione e ricordo quindi l'importanza del contesto l'esperimento di johnson bretford e poi abbiamo visto la memoria come oblio oblio che può essere appunto di due tipi abbiamo visto scusate prima dell'oblio il perché dimentichiamo cioè il ruolo del decadimento dell'interferenza e dell'oblio oblio che può essere di tipo organico e di tipo emotivo organico riguarda principalmente patologie come l'amnesia o anche la demenza senile emotivo abbiamo visto che è causato da meccanismi di tipo cioè l'oblio è causato la dimenticanza è causato da meccanismi di tipo di tipo emotivo e l'abbiamo visto studiato Freud dunque concludiamo questo capitolo relativo alla memoria memoria come sistemi i tre sistemi la memoria come rievocazione ricostruzione contesto perché dimentichiamo decadimento interferenza oblio oblio organico e emotivo questo è lo schema della nostra memoria che ci porteremo per la prossima verifica a presto grazie 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 grazie